Ciao amici benvenuti nel mio canale. Oggi condividerò un nuovo video per voi. Prima di iniziare il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace al mio video, supportarci e iscriverti al nostro canale, condividere il nostro video. Ora passiamo al nostro video. Il famoso attore turco Ali Libraim Cheyan ha fatto una dichiarazione inaspettata. Ha detto che Sila Turkoglu è stato il suo primo amore. Questa romantica confessione è stata accolta con grande sorpresa e interesse dai media e dai fan. Ali Libraim Cheyan, che ha attirato l'attenzione con questa dichiarazione dal suo account sui social media, ha lasciato il segno sull'agenda con le parole sono il primo amore di Sila. La romantica confessione di Ali Libraim Cheyan ha fatto emergere la stretta relazione di quei due personaggi famosi, e i ricordi tra di loro. Ali Libraim Cheyan e Sila Turkoglu sono diventati famosi per le serie tv o i progetti che hanno interpretato insieme. Questa confessione è considerata un dettaglio interessante e suggerisce che dietro le quinte le relazioni trash abbiano una dimensione romantica. La confessione romantica del famoso attore, in particolare i fan ai media di Sila Turkoglu, è stata accolta con grande interesse. Sebbene questa affermazione del famoso attore abbia sottolineato ancora una volta il potere dell'amore e del romanticismo, ha anche attirato l'attenzione dei media e dei fan. Mentre i dettagli della relazione romantica della coppia e il periodo in cui hanno vissuto sono una questione di curiosità, come questa romantica confessione toccherà i loro fan e le loro carriere attira l'attenzione del mondo dei media e dei loro fan. Grazie per essere qui e guardare il nostro video fino alla fine. Ciao!